O Madre, aiuta la nostra fede, aprici all'ascolto della parola, perché possiamo riconoscere la voce di Dio e rispondere al suo richiamo. Infondi nella nostra fede la gioia della risurrezione. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Aiutaci a guardare il mondo con gli occhi di Gesù, perché Egli sia la luce che illumina il nostro cammino e che questa luce della fede cresca sempre in noi fino al giorno senza tramonto, quando incontreremo Cristo, il Figlio Tuo, nostro Signore. Amen.